per definire un percorso di aggiustamento che compatibilmente con le esigenze di sostenibilità consenta di fornire il necessario supporto alla crescita. Il nostro auspicio è che la raccomandazione inerente alla procedura per deficit eccessivi, ossia aggiustamento richiesto, venga approvata contestualmente all'approvazione dei piani presentati dagli Stati membri e in questo modo verrebbe pienamente garantita la necessaria coerenza tra il processo di programmazione economica di bilancio e i requisiti della procedura per deficit eccessivi. Su tali aspetti il Governo intende mettere in atto un assoluto dialogo tecnico con la Commissione europea del quale il Parlamento sarà tempestivamente informato. In conclusione, il consolidamento della finanza pubblica rappresenta una sfida per il Governo e il Parlamento che dovranno affrontare assieme, una sfida complessa anche per via del pesante lassito di incentivi fiscali eccessivamente generosi, distorsivi e regressivi su quali siamo intervenuti con determinazione. L'aggiustamento è pienamente alla nostra portata e la riduzione del rapporto tra il debito pubblico e il PIL nel medio periodo è un obiettivo fondamentale che deve essere realizzato in modo da consentire che l'Italia possa continuare a produrre ricchezze in un contesto che permetta al contempo di salvaguardare l'inclusione sociale. Grazie. Grazie a lei Ministro